Noi chiediamo che le multe siano eliminate perché chi salva vite umane non debba pagare una multa e questo è del tutto evidente. Nello stesso tempo siamo più che d'accordo sul fatto che i trafficanti di esseri umani debbano essere duramente repressi, ma c'è una grande distinzione tra chi offre un sostegno umanitario e chi invece ovviamente traffica e fa profitto su questo. Noi siamo per combattere tutte le forme di legalità, anche coloro i quali si sono approfittati nel sistema di accoglienza anche di norme che non erano adeguate. Noi siamo per restituire alla dignità delle persone la centralità. Per questo motivo siamo interessati a modificare il sistema di accoglienza in meglio, rafforzandolo dal punto di vista soprattutto dell'integrazione per venire incontro anche alle preoccupazioni che sono legittime di cittadini che vivono magari in aree più degradate e periferiche che sono al centro della nostra preoccupazione.